Se stai cercando di installare Windows 11 24 H2 Aggiornamento 2024 su un PC di qualche anno fa probabilmente sei bloccato davanti alla schermata di errore questo PC non soddisfa attualmente i requisiti di sistema di Windows 11 Ebbene, in questo video ti mostrerò proprio come superare il blocco e installare così Windows 11 24 H2 quasi su qualsiasi PC Ah, dimenticavo! Ciao, sono Zanni di Turbola.it Se l'argomento ti interessa e anche tu vuoi installare Windows 11 24 H2 su quasi qualsiasi PC senza requisiti seguimi Prima di cominciare vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbola.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno Per prima cosa ti serve un PC sul quale lavorare Questo PC deve montare almeno Windows 10 perché Windows 7 e le versioni precedenti non sono più supportate dal programma che utilizzeremo fra poco Non so se Windows 8 è ancora supportato Se per caso provi tu scrivimi qua sotto nei commenti com'è andata Ti serve quindi una chiavetta USB con capacità di almeno 8 GB Ricorda che tutti i file presenti sulla chiavetta verranno eliminati Quindi sposta i dati che vuoi conservare dalla chiavetta USB al disco interno del PC prima di proseguire Ciao scusa per l'interruzione Se il video ti piace ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere per me è sempre davvero estremamente importante Quindi grazie, grazie davvero se troverai un secondo per farlo Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia Non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco Mi raccomando non dimenticare la campanella Torniamo al video Devi poi procurarti l'immagine ISO di installazione di Windows 11 24 H2 Se ancora non ce l'hai oppure hai una vecchia ISO fai riferimento a questo video per scaricare l'immagine aggiornata subito Apri ora il nostro articolo turbola.it barra 3758 e segui il link che trovi qua sopra in altro per scaricare Rufus Quando clicchi su questo link ti si aprirà la pagina ufficiale Github Scorri fino a individuare i vari file disponibili E il file che ti interessa in primissima battuta è quello che trovi qua Quindi Rufus numero di versione P.exe Questa è la versione portable che potrai utilizzare senza bisogno di installazione In caso non dovesse funzionarti però puoi ripiegare su quest'altra versione Rufus numero di versione X86 Questo perché la versione portable che ti ho indicato poco fa è compilata per architettura X64 Quindi ti serve Windows a 64 bit In caso non dovesse funzionare invece l'altra versione X86 è a 32 bit E dovrebbe funzionare su qualsiasi versione di Windows 10 ancora in circolazione Non appena avrai scaricato il file avvialo e ti si presenterà una schermata come questa In caso l'interfaccia non dovesse essere in italiano clicca qua sotto sul piccolo mondo e poi sulla nostra lingua per tradurre tutto quanto in italiano Ora dal menu a tendina che trovi qua sopra vai a selezionare la tua chiavetta USB Come vedi io ho già collegato la chiavetta USB ho solo questa di chiavetta collegata al PC e quindi me l'ha selezionata automaticamente Dal menu a tendina qua sotto invece devi selezionare file immagine disco o file ISO Seleziona che dovrebbe essere l'impostazione di default e poi cliccare qui su seleziona per sfogliare il tuo PC E andare così a scegliere l'immagine ISO di Windows 11 24 H2 che hai scaricato un attimo fa Seleziona quindi la tua immagine e l'interfaccia di Rufus dovrebbe aggiornarsi in questo modo Da questo menu mantieni installazione Windows standard e poi presta attenzione alla schermata che trovi qua sotto Ora ti semplifico al massimo la parte più complicata Qui sotto infatti devi selezionare il tipo di schema di partizione e il tipo di sistema di destinazione Ma per farla più facile possibile premi Alt più E sulla tastiera per accedere al menu segreto Quindi come vedi in questo momento ci sono varie opzioni ma se premi Alt più E Ecco qua come faccio io in questo momento come vedi si è aggiornata l'interfaccia Una volta che hai fatto questo seleziona MBR da questo menu e mantieni l'unico tipo di sistema che è presente appunto nel menu a tendina Questo creerà una chiavetta universale adatta a qualsiasi PC Se però vuoi mangiare informazioni su questo passaggio fai riferimento all'articolo testuale nella quale ti ho dato tutte le informazioni tecniche più precise Puoi lasciare tutto il resto delle impostazioni così come si trovano di default Valuta solamente di cambiare l'etichetta quel testo che trovi qui in qualcosa di un po' più chiaro Io ad esempio come vedi ho scritto Windows 11 24 H2 ITA No Recon No Requisiti Così facendo Windows mostrerà il testo immesso in questo campo Quando poi in seguito andrai a collegare questa chiavetta a qualsiasi PC E questo ti sarà sicuramente utile per sapere in seguito che cose contiene esattamente questa chiavetta Per il resto lascia tutto così com'è e clicca su avvia Eccolo qua Ti comparirà così una finestrella dalla quale puoi personalizzare le opzioni di installazione Per raggiungere lo scopo del nostro video installare Windows 11 24 H2 su qualsiasi PC Devi solamente spuntare la prima casella Quindi mantenere la spunta in rimuovi requisiti per 4 GB più di RAM, Secure Boot e TPM 2.0 Questa è la parte più importante per lo scopo del nostro video Che è appunto installare Windows 11 su qualsiasi PC anche se non è ufficialmente supportato Le altre opzioni però sono sicuramente molto interessanti Ad esempio questa ti consiglio di mantenerla spuntata Perché potrai così anche installare Windows 11 senza bisogno di un account Microsoft Quindi potrai usare un account locale offline Ci sono poi un'altra serie di opzioni interessanti valuta sicuramente di spuntarle Quando sei pronto clicca ok Conferma per l'ultima volta e la procedura di installazione di Windows 11 24 H2 Sbloccata senza controllo dei requisiti minimi di sistema Verrà trasferita sulla tua chiavetta USB Ora che la chiavetta USB è pronta Collegala al computer sul quale vai a installare il sistema operativo E durante la fase di avvio dobbiamo scegliere la chiavetta USB come dispositivo di boot Ora la procedura esatta cambia da computer a computer In massima ti consiglio di provare spingendo ESC, CANC, F8 oppure F1, F2 È tutto un gran casino sono perfettamente d'accordo Però con uno di questi tasti dovresti riuscire a richiamare il menu di avvio E selezionare la tua chiavetta USB A questo punto potrai procedere e installare Windows 11 24 H2 su qualsiasi tipo di PC Anche se non supporta i requisiti Se però proprio ancora non ti funziona Devi sapere che nonostante i requisiti minimi ufficiali per installare Windows 11 24 H2 Non siano cambiati rispetto alle generazioni precedenti Sono cambiati i requisiti che possiamo chiamare requisiti reali Windows 11 24 H2 utilizza infatti un'estrizione della CPU chiamata PopCNT Che sta per Population Count ed è presente solamente a partire dalle CPU Intel Core i7 920 Quindi quelle di primissima generazione e AMD FX81 50 Si tratta veramente di processori molto molto vecchi Però in caso tu comunque dovessi avere una CPU ancora più vecchia di queste generazioni Come ad esempio gli Intel Core 2 Sappi che non puoi installare Windows 11 Al momento nonostante questo trucco proprio non funziona E che io sappia al momento di registrazione di questo video Non c'è un modo di installarlo Proprio perché il sistema operativo utilizza un'istruzione Che semplicemente il tuo processore non ha Bene da Zaniditurbla.it è tutto Se sei riuscito a installare Windows 11 24 H2 su un PC non supportato tramite questa procedura Scrivimelo qua sotto nei commenti E magari raccontami anche le caratteristiche del tuo vecchio PC Se il video ti è piaciuto ti chiedo anche di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere Per me è sempre estremamente importante Quindi grazie, grazie davvero in anticipo Se troverai un secondo per farlo Non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso Iscriviti per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia Quindi Windows come oggi ma anche Linux, Internet e Tecnologie, Server, Blockchain, Bitcoin e tutto il resto Al prossimo video Ciao